Un 57enne di Ardesio, Eugenio Verzeroli, ha perso la vita questa mattina lungo la strada che da Valcanale conduce al rifugio Alpecorte. Gli è stato fatale un malore. L'uomo è stato trovato a terra, privo di sensi, intorno alle 8.30, un paio di chilometri da Valcanale, da due escursionisti che stavano salendo verso il rifugio. Subito è scattato l'allarme. Sul posto è stato inviato l'elicottero del 118 di Sondrio, atterrato vicino al laghetto di Valcanale, perché gli alberi non permettevano di avvicinarsi al luogo dove si trovava il 57enne. L'equipe dell'eliambulanza è stata trasportata sul posto dal fuoristrada della Croce Blu di Gromo. Il personale del 118, però, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono giunti poi anche i carabinieri della stazione di Ardesio per le verifiche del caso. Eugenio Verzeroli era molto benvoluto ad Ardesio, dove tutti lo conoscevano col soprannome di Pacio. Da subito si è capito che la sua scomparsa lascerà un grande vuoto, perché Pacio era una persona molto impegnata per la sua comunità. Lo descrivono come uno dei volontari più attivi in paese, pronto a darsi da fare ogni volta che gli veniva chiesto un aiuto. Prestava servizio praticamente in tutte le feste, come ha detto alla cucina. Il presidente della Proloco, Simone Bonetti, lo ricorda soprattutto per la lealtà, sincerità, spontaneità e disponibilità che ha sempre dimostrato a servizio della sua comunità. Eugenio Verzeroli lavorava come operaio alla segheria Fornoni di Villa Donia. Era un grande appassionato di montagna. Abitava da solo in una casa di via Locatelli. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 15.